Come mettere un post anonimo su Facebook in un gruppo? Da poco tempo Facebook, il socio di Mark Zuckerberg, ha introdotto questa nuova piacevole funzionalità. La possibilità di inserire infatti un post anonimo in cui non si vede né nome né cognome di voi, di te, che lo state, che lo state scrivendo. Per fare tutto questo entra nel gruppo di tua scelta, non tutti i gruppi hanno questa funzionalità, ma la maggior parte sì. Entra dunque dentro nella parte di discussione che trovi in atto nei casi sopra. Troverai uniquadro in atto bianco con dentro la scritta, o meglio le scritte grigie, scrivi qualcosa e con tre puntini di sospensione. Clicca dentro quella scritta, ossia scrivi qualcosa, dopodiché in atto troverai una scritta, una frase che è pubblica post in forma anonima. E a destra la possibilità di, o meglio, un indicatore di colore grigio. Bene, clicca quell'indicatore, ti apparirà subito una finestra con scritto post anonimo. I post anonimi pubblicati nel gruppo non includono il tuo nome né la tua immagine del profilo. Gli amministratori e i moderatori dei sistemi di Facebook possono vedere il tuo nome né la tua immagine del profilo. I dettagli che includi in un post anonimo potrebbero rivela la tua identità. Per il protaggio del tuo privo si abbiamo disattivato alcune opzioni. Quindi ti informa del fatto che gli amministratori e i moderatori dei sistemi di Facebook possono vedere il nome né la tua immagine del profilo. Ok? Però gli altri nessuno lo vedrà. Ok. Dopodiché clicca su OK. A questo punto scrivi il post che vuoi mettere in forma privata o mai anonima. Dopodiché clicca in basso su pubblica. Ok? O meglio sulla scritta invia. A questo punto il post è stato inviato al gruppo di Facebook in cui tu volevi. Avrai realizzato questa cosa. È una funzionalità importante nel caso in cui tu non vuoi far vedere come ti chiami, quindi, le tue generalità. Iscrivetevi, iscrivetevi al canale Narratore Italiano, commenta. Ciao a tutti e una buona giornata a voi.